Claudia, lo diceva la Samantha Antonicola un attimo fa, non è un film consueto, usiamo questo aggettivo, e anche a voi attori è stata chiesta, credo, una prova specifica. Assolutamente, come accettavo un po' ieri, è stato proprio un film difficile da un punto di vista tecnico, perché è venuto a mancare l'aspetto proprio classico dell'apporto, dell'apportazione tra attori, in quanto dovevamo recitare Claudia con un screen, immaginando tutti gli altri personaggi, perché noi abbiamo provato altre volte a fare qualcosa al telefono, lei recitava con noi al telefono guardando lo screen, e invece noi altri guardavamo in camera, direttamente, quindi era veramente assurdo perché dovevamo immaginare un viso che non vedevamo, avevamo chiaramente, Claudia che ci dava le battute vicino alla camera, ma comunque mancava l'aspetto diretto, che è una teoria fondamentale a tutto. Quindi è stata veramente una bella prova a teoria, immagino come quando uno deve immaginarsi degli effetti speciali, no? È un po' quella sensazione lì di non sapere quale sarà il risultato finale e di non avere qualcosa di diretto con cui poterti rapportare. Questo per me è stato molto interessante. No, no, è vero, quando poi però uno guarda quegli effetti speciali, sai che sta arrivando una catastrofe, un dinosauro, quello che deve fare, come dire, ha una gamma di espressioni più limitata. Qui c'è un rapporto che passa attraverso la parola. E poi erano anche, per quanto riguarda, delle scene anche abbastanza intime, ma anche per quello che riguarda gli altri personaggi, le varie psicosi, non erano delle scene proprio banalissime, qui ci si raccontava che cosa si aveva fatto un giorno prima. Quindi era fondamentale che passasse un'emozione, quella che avevi un po' ricreare. No, dei modelli, diciamo che ho attinto un po' alla condizione umana di questi anni. Sicuramente la pandemia ci ha cambiato, no? Nel profondo, siamo pronti ad interagire con le persone tramite gli schermi, sempre più facile, in modo più consueto. Poi la sua fragilità nasce proprio da essere una donna interrotta, quindi una donna con questo trauma, no? Che però l'ha separito sotto metri e metri di coltre, questo passato. Quindi la sua fragilità è una cosa che mi piaceva molto, ho giocato molto su questa, intanto la fisicità di una letta, perché il contrasto è continuo, questa corsa, questo impegno fisico, ma che poi invece arrivano queste emozioni. L'empatia con l'altro è stata la chiave per raccontare proprio questa storia, no? Perché io ho sempre pensato, una canzone, perché lei è abituata a sentire i problemi di tutti, è abituata ad assortire anche del malessere e tutto quanto, no? Però l'ho immaginata sempre senza pelle, cioè sempre che ti arrivassero questi problemi che lei, ed era, diciamo, l'istinto era di farli suoi, quindi forza di tenere sulle spalle e dare coraggio e dare chiavi di soluzione agli altri, mettendo sempre da parte suoi. Poi ci sono dei tanti piccoli messaggi nel film, quindi che la differenza è essere diversi un punto di forza, e tutte e piccole cose, quindi questo ha notato, diciamo, la chiave di... mi sono ispirata alle donne di oggi, a tutte. Grazie. Ma io comprendo, diciamo, io sono cresciuta facendo tanti film, quindi ho... fa proprio parte un po' della mia vita, però ho l'ultimo... ovviamente il meccanismo, adesso vedendolo da regista, è anche un po' una piccolissima parte da produttrice, e proprio che capisci molto meglio le difficoltà, e al montaggio ho imparato tantissimo, tantissimo, ho capito tantissime cose al montaggio, che sono adesso molto più chiare, e insomma, e poi mi è piaciuto moltissimo la post-produzione, il suono, il sound design, cioè seguire tutto passo passo, hai una visione totale, no? Un'attrice va via dal set, saluta l'ultimo giorno, e ciao, e se ne va invece questa volta a seguire tutto quanto mi ha aperto gli occhi, ovviamente mi ha fatto vedere come è complicato, anche come è lungo, e come è veramente dettagliato dopo il set, che è la parte, poi è bellissima, sarà a montaggio, e creativamente, e poi ho capito che puoi continuare a lavorare nel film, se qualcuno non ti dice, c'è il Vinces che vuole editare, eh? Ho lavorato anche due, tre settimane, invece, meno male, si dice l'altro, io, che perché Lazio non ha dato questa possibilità, e abbiamo, no, dobbiamo consegnare, grazie a voi, se no sarei stato ancora lì a montaggio. Ma cambio, posso chiederti però per chiudere, perché mentre lo vedevamo separatamente con Felice, io cercavo di capire quanti chilometri hai fatto mentre giravi il film. Avete provato a contare, no? Samantha Otremo, non è che si sta pagando questa accettazione. Grazie, grazie, Samantha, grazie a tutti. Non abbiamo potuto fare un record, proprio certo, non abbiamo potuto, perché io ogni tanto l'ho fermata, e quindi ero anch'io curiosa di capire quanto essi corso, quanto avessi camminato il tappo. Quello, quello, centinaia, no, perché hai fatto giocare nel corso. Centinaia? Sì, ora qui abbiamo Tecno Body, il nostro sposo che ci ha fornito questa macchina bellissima, l'Eccellenza italiana, che sarà lanciata a livello mondiale a breve, e mi hanno detto centinaia di chilometri, quindi ho fatto a diverse maratone. Quindi, comunque, è un record. Grazie.